Che altro può fare felice di lei Farfalù? Le dispiace farci passare Ippopotama Beh, non credo che voglia farci passare Benvenuti nella strada degli Aquiloni dove i Koala portano i loro piccoli a giocare Ma il signore Chu tutti via li ha fatti volare Aiutate la signora Ippo Gonzales, la loro maestra ad acchiappare gli Aquiloni con voi